Non dovrebbero esserci diversità fra campionato e champion, dovremmo affrontare le partite tutte allo stesso modo perché sono tutte importanti e tutte hanno sempre i tre punti in paglio. Sono non soddisfatto al massimo perché abbiamo fatto risultati altalenanti, volevo avere un po' più di continuità nei risultati, però è normale, siamo una squadra nuova, con un allenatore nuovo, con un tipo di calcio diverso, quindi non avendo fatto neanche tanta preparazione, un po' più di tempo era normale avercelo per meccanizzare alcuni movimenti e anche per conoscersi i giocatori uno con l'altro, però sono sicuro che i giocatori mi seguono, sanno quello che devono fare, quello che vogliono fare e quindi non mi preoccupo per quello che stiamo facendo. Il problema principale è che quando non vinci ci sono problemi e quando vinci sei bravo, quindi è sempre stata così nella storia del calcio, quando vinci va tutto bene, quando perdi o pareggi escono e nascono problemi che magari non esistono, quindi sono abituato a questo, so quello che sto facendo, sappiamo dove possiamo migliorare e dove dobbiamo migliorare, quindi solo il tempo potrà dire cosa faremo in futuro. Ma domani non penso perché siccome Morata sarà squalificato domenica in campionato, Paolo ha fatto anche una partita all'altra sera impegnativa, quindi per non rischiare poi di perdere qualche giocatore in vista delle prossime partite è meglio che domani giochi Morata e di bala si prepari poi per il derby. Non credo di aver detto cose così forti dopo la partita di Benevento, sono state frasi di circostanza su quello che ho visto ma su quello che hanno detto anche i ragazzi, bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato anche con le unghie, anche se sei a Benevento in vantaggio di 1-0, gestire meglio i momenti della partita, lo so io, lo sanno loro, lo abbiamo analizzato anche in questi giorni, quindi non penso di essere stato duro ma era solo un dato di fatto. Ma sì, noi pensiamo partita o partita, quindi domani c'è la Dinamo e pensiamo di mettere i giocatori che abbiamo a disposizione per fare una buona partita. è normale che chi ha giocato magari di più come Quadrado e Danilo possano avere un turno di riposo, però sono importanti tutte le partite, domani abbiamo una gara importante di Champions, quindi troveremo degli 11 bravi da mettere in campo. Colusevski da quando l'evento si è sempre giocato nello stesso ruolo, se magari qualcuno non l'ha visto, ha sempre giocato in 1-3 quarti partendo da una posizione esterna per cercarsi la posizione a fianco del nostro attaccante. La posizione è sempre stata quella, ha fatto partite buone, altre meno buone, però ho sempre detto che un ragazzo giovane, tutti i giovani che sono arrivati alla Juventus hanno fatto tutti lo stesso percorso, hanno giocato, non hanno giocato, per poi prendersi il posto con le partite, quindi è un percorso che stiamo facendo con lui come con gli altri giocatori e sono contento di quello che ci sta portando.